Vigili del fuoco e carabinieri all'ufficio postale di Badia Alpino, siamo in Valdichiana. È stato ritrovato un innesco e le indagini in questo momento sono in corso. Intanto sono stati evacuati gli uffici che si trovano nelle immediate vicinanze dell'ufficio postale e anche le abitazioni e gli esercizi commerciali. Si sarebbe trattato del tentativo di far saltare in aria il bancomat della filiale di Poste Italiane. È successo durante la notte, l'allarme però sarebbe scattato soltanto di mattina all'arrivo dei dipendenti della filiale che avrebbero sentito un forte odore di benzina all'interno dei locali. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Arezzo e di carabinieri. È stato ritrovato una sorta di innesco, uno straccio, nello sportello che eroga il denaro per lasciarlo aperto. I malviventi potrebbero poi aver tentato di saturare il macchinario di materiale infiammabile. Il tentativo però non è andato a buon fine. Non si sa ancora che cosa possa aver scongiurato l'esplosione. Forse un forte temporale che ha interessato la zona verso le tre del mattino, lo stesso orario in cui alcuni residenti avrebbero sentito dei rumori. Gli uffici postali e tutto lo stabile di cui fanno parte è stato evacuato assieme ad un esercizio commerciale adiacente. Hanno provato di farlo saltare. Voi vi hanno chiuso? Sì, tutti. Il fioraio e il condominio. Vi hanno chiuso? Sì, siamo chiusi. Per ragioni di sicurezza? Per ragioni di sicurezza. Sul posto anche gli artificieri della Toscana che devono verificare il da farsi ed eventualmente, una volta che tutto sarà in sicurezza, riaprire i locali. Per ragioni di sicurezza.